Oggi cuciniamo feggitelli all'Arava. I feggitelli appartengono alla famiglia dei pevoni e vengono dall'America, sono stati importati da Cristofo Colombo, contengono molta vitamina C e hanno anche il potere a chidolorifico. Gli ingredienti per due persone sono mezzo chilo di feggitelli, un paio di spicchi d'aglio, un pugno di mangiarle e un pugno di uvetta sul tamina. Innanzitutto lavate accuratamente i feggitelli e asciugateli molto bene di modo che nel momento in cui andate a friggere non schizzi l'olio dappertutto. L'aglio come sempre va mondato, eliminato pezza e cola dell'aglio e tagliato a metà per eliminare la parte verde dell'anima per renderlo più digeribile. Ricordatevi sempre di ammollare 15-20 minuti le uvette in acqua tiepida. Tagliate la terza del friggitello e dividete nel quattro senza togliere le parti interne. Spettate le mandorle in due o tre parti. In una padella interne aderente ricoprite il fondo di olio extra virgin di oliva, aggiungete due spicchi d'aglio e lasciate che l'olio si scaldi prendendo il sapore. Dopo un minuto che l'aglio soffrigge aggiungete le uvette, le mandorle a pezzi e fatele tostare per un paio di minuti fino a quando non diventeranno di colore scuro. Una volta che le mandorle e le uvette saranno tostate, aggiungete i friggitelli tagliati, mescolate, regolate il sale e lasciate cuocere poco vivace fino a quando i friggitelli non si saranno cucinati. I nostri friggitelli sono ora pronti. Se volete accelerare la cottura, abbassate la fiamma e coprite con un coperchio fino a quando non diventeranno bruniti. Spegnete la fiamma e sapete seguire su un piatto lo portavano. Voila! Grazie a tutti! Grazie!